un ricordo del signore palmieri voglio dirlo perché si fa per i 60 e sembra addirittura 60 che bastardate è in quel decennio lì però tu hai superato i 50 giusto? 54 e 54 e 35 e quello che voglio dire un giovane 54 e quello che vada per i 60 no dai. Beh se li ami i ragazzi volano eh. Ma vabbè. Buongiorno a tutti, buon inizio settimana Fimo è dare un po di ottimismo proprio BEM BEM BEM. Me vale che non gliene fregano niente. Chiaramente era un complimento, voglio dire è una persona adulta